Colpo di Stato lo stanno facendo il PD e il Movimento 5 Stelle e ci stanno imponendo un governo che gli italiani non vogliono perché se anche fosse il 60% degli italiani è sempre la maggioranza che lo vuole andare al voto, chiaro? Ma Mattarella è complice di tutta questa situazione? Certo, Mattarella è complice del governo abusivo che sta venendo su E' meglio che te ne vai perché adesso ci incazziamo, meglio che te ne vai Vai dalla sinistra, vai da qualche sinistroide Voi non rispettate Lei mi ha incazzato con le risposte Mi ha incazzato e pretendeva che io le rispessero Sto minacciando, pensate Guarda, guarda Guarda i coglioni, figlia E' fuori dei coglioni Guarda i coglioni